Il talento non ha età, a dimostrarlo la stazione della musica di Besnate, che come ogni anno a luglio propone la sua grande festa di fine anno. Una domenica baciata dal sole, quella appena trascorsa, che ha visto susseguirsi sul palco allestito nel bellissimo parco dell'Associazione, 70 esibizioni, tutte rigorosamente live. Quest'anno contiamo circa 70 esibizioni, tutte live, quindi non utilizziamo basi o ausili esterni, per cui è comunque alla fine un po' la consacrazione di tutto l'anno di lavoro, fondamentalmente. Ed appunto questa sera spazio alle band, quindi si parte con gli alunni anche un po' più piccoli per arrivare fino alle band. Esatto, sì, la mattinata di oggi è dedicata ai solisti. Questa sera vedremo tutte le band ai più piccoli, che hanno otto anni fino ai super grandi. Anno scolastico finito dunque, ma la stazione della musica non chiude i battenti ed è già al lavoro per preparare nuove attività. Avviata nei mesi scorsi la collaborazione con il London College of Music, stimato conservatorio londinese, la qualità dei corsi offerti dall'Associazione è sempre più alta. Per informazioni visitate il sito internet www.lastazionedellamusica.com